Sì, era importante partire con il piede giusto, siamo riusciti a strappare un 2-0 all'Albania, era molto importante sia per il morale che per consolidare quelle che sono le caratteristiche tecnico-tattiche di questa squadra. È un ottimo gruppo, è un gruppo chiamato a far bene, è un gruppo fatto di ragazzi che hanno voglia di dare il massimo, che hanno voglia di portare a casa un buon risultato. Abbiamo la possibilità di fare questo e quindi combatteremo fino alla fine. Abbiamo sofferto forse un po' più del dovuto, però obiettivo raggiunto, prima vittoria portata a casa all'esordio. Sì, penso che è stato anche dall'inizio che è stato un po' difficile, perché anche giocando in casa queste partite, c'è Quagiu, a Pescara, dove a fare bene e quindi ci siamo fatti poi la vita difficile. Oggi pomeriggio si torna in campo, altra partita difficile contro la Grecia, l'importante sarà a vincere ancora. Sicuramente sarà anche una partita contro la Grecia una partita difficile, però facciamo passo dopo, cioè passo per passo e il capoteo fa bene questa torneo.